Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Gravia Skies Eccoci qui ragazzi in un nuovo video della Gravia Skies Io ho proseguito un po' off camera, ho fatto un po' di cosettine ragazzi, tipo quella, poi ve la spiego E ho aumentato un po' l'automazione, qui ho messo doppio hammerer, doppio sever Che vanno da paura ovviamente senza call, non andranno mai, ma quelli sono dettagli Effettivamente devo prendere il call e metterlo nel generatore perché ha finito Perfetto, è partito Ok, però facendo questo sistema che ho creato negli scorsi video insomma Mi si crea un piccolo problemino, mi spiego, mi si ammucchia qui tutto il minerale Guardate quanto ferro c'è, 3 stack di ferro più 23, c'è un casino, non avete idea E sto producendo tutti questi materiali, però purtroppo fino adesso ho dovuto cuocerli a mano Cioè io ho dovuto prenderli, metterli a 4 nella crafting, martellarli, non me va Molto semplice Vorrei automatizzare il tutto, quindi ho creato alcune zone Dove, che utilizzerò per automatizzare insomma queste situazioni Ad esempio qui automatizzerò Il cotoli, come si chiama? La cottura dei minerali La cuociatura dei minerali Lì invece volevo fare la zona agricola Cioè praticamente sto cercando di splittare le cose come faccio nelle mie serie normali Per evitare la lag dei chunk Però la distanza non è proprio ottimale Ho contato un po', però non dovrebbe essere proprio perfetta Dovrei andare un po' più lontano, però mi sembra troppo, poi è troppo dispersivo Poi qua già ci sta mancando i blocchi Ho usato un casino di cobblestone e questi macchinari sono dovuti stare fermi per tipo un paio d'ore Perché prima che recuperassi tutta quella cobblestone Ci ho messo una vita, sto stogneus lentissimo ragazzi Finché non lo oppogredo È proprio una merda E comunque tornando a noi Cosa devo fare per creare questa automatizzazione nuova? A parte il fatto che devo smettere di usare gli hammerer E devo passare ai polverizer Perché polverizer ragazzi? Perché la cobblestone nel polverizer Non ci dà solo la gravel come dentro a quei cosi Ci dà la gravel più la sabbia Ed è molto figa come cosa, molto molto figa Perché poi io la gravel posso ricosarla e ci dà la dust e la... Capito, è lo schifo lì, come si chiama? E la, vedi, la sand e la dust La gravel, la sand e dust Non è male come cosa perché anche la dust non serve un cazzo perché va solo shiftata E shiftare la dust su altri materiali Alla fine l'utilità vera di shiftare la dust non c'è se non sbaglio Vedete perché se io shiftassi la dust Ah vabbè sì, ok, mi dà blaze powder e la sky Vabbè, non mi serve un cazzo, mi dà bombille Ah giusto per il quarzo in polvere, ma tanto me lo dà la gravel La redstone, ecco, la redstone giusto questa posso considerarla una cosa figa Vediamo se c'è qualcos'altro che me la dà No, solo la dust Ok, ci sarebbe... Ah, le api, vabbè, questo poi Quindi penso ragazzi che l'unico motivo per cui uno dovrebbe Fare la dust è per la redstone Quindi sì, un po' ne faremo Ok, no problem Intanto ci abbiamo i civili Possiamo anche potenziare ragazzi Lo sapete che questi sono potenziabili Questi due slot sono gli upgrade, eh Dientrano sempre più potenti e possenti Comunque, tornando a noi Cosa faccio adesso? Devo fare i pulverizer Perché il primo processo, ovviamente Invece di farlo con gli hammer Facciamo con i pulverizer Sono più veloci E esce più roba Molto semplice Come che si craftava Dovrei avere già tutti i materiali Perché stavo un po' Gimanettando off camera E sono anche morto Oltretutto ho preso un'altra vita Però ho tantissime vite Perché è entrato un list È entrata chiara È entrata un po' di gente Che mi ha... Mi sono schiaffato un po' le vite loro Perché loro rascono con quattro Si entrano in gruppo Mi danno le loro vite al partino Quindi ho 16 vite Ah, sono figo, basta Qui è bugabuse, eh Si, l'ho aggiunto perché tanto rientreranno Quindi rientreranno Moriranno E mi toglieranno vite Quindi ce l'ho in più Ma è il relativo in più Perché tanto loro in modo Doverranno a giocare Quindi non dettaglio Si, vabbè che palle raga Però sono morto di nuovo Non è possibile Io non so che cacchio sta succedendo Boh, vabbè Mi metto la testa di Xander Ah, c'ho la testa di Xander Ora non più Ora sì, ora no Che cambia, scusatemi, eh C'ho la mia testa Ah, non c'è un cazzo da ridere Basta, leva Allora E' l'Igneus Extruder Ragazzi Perché senza Igneus Non si riesce a fare un cazzo Perché è da qui che esce la cobble E sono ovviamente Vabbè, questi li facciamo basic E ci ho fatto un cazzo Ah, dovrei già poter craftare No, che mi manca? Perché non va al craft? Ce l'ho Pistoni Vetro Copper gear Frame C'è tutto What? Dove stanno i frame? Ho posato i frame da qualche parte Ok, ecco li trovati Ok, ne facciamo Tre? Va bene tre secondo voi Va, facciamone due Va adesso Tanto producono tanta cobble Va, facciamo due Ok, quindi Questi due igneus Devono andare a Bam Dicevo Questi due igneus Devono andare a buttare dentro Il pulverizer Allora Io potrei farla In orizzontale Per di là O per di qua Do decidere Perché deve essere Stendibile all'infinito Come impianto Facciamo Verso destra Quindi L'impianto partirà tipo così L'impianto Oddio ragazzi Comunque L'automazione che stiamo creando E dall'inneus Andrà nel pulverizer In questo modo Quindi dobbiamo aggiungere Acqua e lava Allora di lava ragazzi Ne ho veramente un casino Guardate qui Vabbè pieno 256.000 Qui pure Qui 87.000 E qui 200 Oh cazzo Tutti pieni di lava Ragazzi Ragazzi Qui ci va un generatore A lava Guardate la cazzo Di lava Che ho prodotto Oh mio dio Non ci ho fatto caso 3 barili pieni al massimo What the fuck Questo si sta riempiendo Wow Perfetto ragazzi Il nostro igneus Ha cominciato a produrre E adesso lo dobbiamo Collegare con i tubi Allora L'entrata da qui Ovviamente Perfetto E l'uscita Da sinistra Molto molto Semplicemente L'uscita poi Andrà tutto in un sifter Anzi tanti sifter Vado a prendere i sifter 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 Siver Come cacchio si Siver Automatic sieve Ok togliamo Oh non cadere eh Non fa cazzate Che per craftarlo qualcosa C'è una settimana Ok troppa Troppa roba Cosa Mazzato se enderman Non fosse uscito N'ender per lo Allora Semplicemente In questo modo Vado a collegare L'inus Col pulverizer Ta-da La cobblestone Dovrebbe già arrivare Ecco lo stronzetto Bastardo che mi ha ucciso Prima Mi fottono sempre questi Dov'è la spada L'ho tolta L'ho tolta Ok Perfetto Morto Dicevo La cobblestone Polverizer Per attivare il tutto Ovviamente Perfetto Come potete vedere Ho collegato il cavetto E adesso poi Dal polverizer Si andrà dentro Al siever L'energia la faccio Arrivare da sopra Ma alla fine Potrei anche farla Passare dal lato Perché io volevo fare Una cosa insomma Carina esteticamente Guardare comunque Se io lo facessi Entrare dal lato Però guardando dall'alto Si capirebbe meglio L'impianto Per farlo sembrare Comunque comprensibile Ragazzi Foto un cazzo Che sia efficiente o no Deve essere visibile E comprensibile Quindi da qui Adesso faccio uscire A sinistra Il risultato E poi andrà tutto Nel sieve Automaticamente Adesso dobbiamo dare Energia Quindi passiamo Alle quest di energia Ragazzi Si quei generatore Lì non vanno Cioè oddio Non vanno bene Sono buoni E 40 rft Che non è male Però si può fare Di meglio Esempio ragazzi Il generatore Che produce meglio Cioè il più efficiente Anzi il più economico Come posso dirlo Capito ragazzi Quello che vale la pena fare Ecco Parole speech Insomma E quello No 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 E lì copper gear Buoni qui No 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 E lì copper gear Buoni qui Dicevo Quello che vale la pena fare È quello che ci chiede La quest Dove sta Vediamo un po' Se possiamo vedere Energetic grids Power grid Eccolo qui Quello che ci chiede a fare È questo Il survival power Che sarebbe Il survivalist generator Ragazzi Il livello di efficienza È il migliore Che c'è Quindi adesso Noi li andiamo a craftare È facilissimo Guardate Un pistone Due ferro Cobblestone Redstone Fornace Facilissimo Allora Dovrei già avere Tutti i materiali Nell'inventario Proprio di una facilità unica Ecco qui E fornace Ecco qua Survivorist Allora per adesso Ne faccio uno Quanto consumava il Pulverizer 20 o 40 Non ricordo Allora il Pulverizer Consuma fino a 40 Eh 40 è tanto A differenza dell'hammerer Consuma un botto Però Fotte cazzi Fotte proprio cazzi Passiamo Allora La quest è completata Perfetto Oh 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 Se stiamo a regola oggi Guardate ragazzi Lo sapete che i zombie piccoli Mi tolgono le torce Guardate Non ci sono più torce È stato lo zombie piccolo Mi toglie le torce È un bastardo Ecco qui la nostra quest Oh 32 coal GG energia Poi altre cose che possiamo fare Per fare energia Ovviamente i pannelli solari E ovviamente Il food To fuel Potremmo utilizzare Il I ricavati Della nostra fattoria Della nostra farm Insomma Ho anche la carne marcia Va benissimo Per produrre energia Con il culinary generator Vabbè Questo ci fotte un cazzo Possiamo fare anche la sun power Energia solare Solo che Produce un po' pochino Insomma Noi fotte cazzi Facciamo anche quella Non è il problema Nel frattempo raga Vado a collegare il culinary Perché aspetto che mi sta facendo la sub Per fare i pannelli solari E sì ragazzi I solar panel richiedono un sacco di vetro Per poter essere creati Guardate Guardate Tantissimo vetro che si fa Vedi tre vetro Ogni Serve l'argento Voi lo sapevate che serviva l'argento Io mi ricordavo il ferro Guardate Argento e vetro What the fuck Vabbè Solar panel Go ragazzi Siamo riusciti a fare ben due solar panel E completiamo la quest Che ci dà come reward Redstone Vabbè Se può fa Se può fa Ah non ci chiede di fare i pannelli solari più fighi Strano E poi ci va a fare questo Wind power ragazzi Vabbè Questo Forse non so se ho tutti i materiali Poi lo facciamo magari Ok Questi solar panel producono un po' pochino Infatti fanno un po' schifare Cazzo Però li mettiamo Danno un piccolo aiutino al nostro generatore Ecco fatto ragazzi Guardate che figata Con la nuova patch Le texture si uniscono E diventano un unico solar panel Guardate Vedete il contornino Che qui in mezzo non c'è Le texture si uniscono E' fighissimo Che cosa Vabbè Finito questo Abbiamo dato un piccolissimo boost Perché questi cosi ragazzi Producono Vedete Un RF A tick Uno solo Quindi Non è che sia proprio il massimo Però Dai Power 6G10 Adesso Prossimo passo Nella nostra automazione Ragazzi Sono i cyclic assembler Sono la parte più importante Sono quelli che accettano Tutti I nostri materiali Quindi è molto importante Perché dobbiamo farne Uno Ascoltate bene Uno per ogni materiale Da unire E se non sbaglio Erano 7 o 9 Ce ne stanno un botto diversi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Esattamente 9 ragazzi Quindi noi dovremo fare 9 cyclic Se sta spioggia non smette di cadere Io disinstallo la grazia E a quanto pare Raga sono a corto di tin Quindi dovrò Martellarne un po' Vabbè Futecazzi La pazienza non mi manca Ragazzi Faccio tutto off camera Tranquilli Allora Vediamo un po' Quanti cyclic riesco a fare Ma mi sa ragazzi Che non riesco per oggi Perché veramente Ci vuole un botto Per fare questi craft Allora Un po' di fatica Devo arrivare almeno A 18 copper gear Allora ho finito il copper Ragazzi Devo Devo cuocere anche il rame Che devo fare Il tin nel rame Il rame ce no Uno sproposito ragazzi Mettiamo a 4 rame E mettiamo a martellare Anche questo Ok ragazzi Già posso craftarne 3 Non è proprio il massimo Vabbè Devo arrivare a 9 Quello che devo fare Adesso semplicemente ragazzi È fare la prossima fase Dell'automazione E infatti a quanto pare Dovrò far passare Tubi elettrici sopra Perché così non vanno bene Che la prossima fase Ovviamente include I cyclic che stiamo craftando ora Dove i nostri materiali Andranno Tutti i materiali Prodotti dal Dal sieve Andranno all'interno Del nostro cyclic E verranno trasformati Nel materiale Che desideriamo Ovviamente ragazzi Dobbiamo fare in modo Che vadano all'interno Del cyclic Solo i materiali Che vogliamo noi Quindi Devo spiegarvi anche questo Ragazzi Io vi saluterei qui Perché devo craftarmi Gli altri cyclic Devo arrivare a 9 Sono ancora a 3 Manca 4, 5, 6, 7, 8 No Un botto ovviamente Però il fatto buono Sta nel fatto che Ascolta Il fatto buono Sta nel fatto che Questi cyclic Andranno bene Per tutti i sieve Che metterò Quindi Oltre a questo Io metterò ad esempio Un altro sieve lì Un altro sieve lì Farò tutta una catena Infinita di sieve E andranno tutti Sempre dentro a questi cyclic Perché questi cyclic Sono talmente veloci Che reggono tutti Tantissimi sieve Tipo un centinaio di sieve Scia alla mente Quindi senza problems Quindi ragazzi Questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo video Che sarà Domani No purtroppo Alle 2 non esce E sarà Dopodomani Anzi no domani alle 4 Facciamo alle 4 Dai domani alle 4 Domani alle 4 uscirà Un'altra grine ragazzi Quindi mi raccomando Non perdetela E Ho fatto 50.000 iscritti Mi sento figo Ciao a tutti Alla prossima video Bella Ciao a tutti